ciao a tutti ragazzi sono gabilo oggi siamo nella modalità registra c'è sì perché c'ho voglia di fare un po di casino con il mio personaggio c'è sì avete capito bene con il mio personaggio c'è c'è di di digit online c'è voglia di fare un po di cosi grazie va a cacca mare fa sto qua cioè non per niente ma che vi posso dire i tengo a due fanno picchi di borda ma ok ma io ma neanche muudon un due tre quattro c'è un due tre quattro c'è un sette otto c'è un sette ok aspetta aspetta in questo cazzo FICA ti facci, mi faccio ma tutti i facci voglia a tappar ok ragazzi possiamo dire che ho sbagliato non è qua ok ragazzi che vi posso dire ma anche qua c'è più movimento più migliore ci sono quei pochi ciclisti che passano ma portami bro portami bro alzati cazzo andiamo a vedere ok adesso potiamo sbagliare ma guarda la pressione ok c'è si vuole un po' no ma un giocato un giocato un giocato fermati 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 cazzo oh no che quello è buono che questo è buono che mi metto là dietro ma mai si ferma fermati 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 ti vuoi fermare ciola vi volete fermare e che due coglioni vi volete fermare una puttana di volta questo sta pure pieno se guarda intelligentissimo che vuole saltare avanti qui vedrete no che questo è dietropport aspetta guarda un po' un po' c'è no ma proprio una faccia di ciola una faccia di ciola veramente una faccia di ciola veramente una faccia di ciola che due coglioni veramente c'è 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 proprio una faccia di ciola che faccio io cado che faccio io cado che faccio io come brava faccia da ciola cado che sta praticamente tanto tanto di cosa quale è pieno c'è proprio non è lui perché qua c'è c'era bianco e arancione però c'è però c'è un modellier sul cuo e va dove ti move vai a fungure dai dai move guarda ta guarda o voglio tardi abbassare ancora un po e frate tu tu non hai capito il cazzo devi acelerare ma però ma ma c'è due ma c'è ok minchia minchia c'è però ma che palle che va nella croce a posto oh questa non è la tua corsia coglione non è la tua corsia strancio che è che sia così ma ma qui sei scemo non è la tua corsia non è la tua corsia non è la tua corsia devi riportare la mano attacca attacca chi è morto chi è morto chi è morto da voi ma ci ha creato questo, questo romano, una scelta, un handicappato, ci ha creato questo ma va a fare male ma sentite, che vi posso dire? ci vediamo in un prossimo video iscrivetevi, mettete mi piace commentate, fate girare la voce perché perché è importante che fate girare la voce se no quando passate con la macchina io vi faccio oh qua stava, se no che succede? quando state in macchina io con Langerhats vi faccio saltare in aria però intanto salto anch'io oh che cazzo ti fanno? che tanto schiatti quindi ragazzi, che vi posso dire? iscrivetevi, cosa più importante il resto di Pokémon e Drake ci vediamo in un prossimo video ciao ciao Grazie.